La mia figlia Un pezzettino di sedere. Meno. Ornella Muti si confessa a Marisa De Michè sul nuovo numero del settimanale F in edicola da domani. Un'intervista nella quale la popolare attrice racconta il suo rapporto con gli uomini, con la sua professione e con i suoi figli. Immancabile la domanda su Naike e sul suo modo di utilizzare i social, mia figlia ha una mente molto brillante e intelligente, credo che faccia delle cose forti, però la sua è una forma di espressione moderna e io la rispetto. Alla fine quello che mette in rete va bene, io sono sua madre. La gente vuole spiare. Lei che mi ama tanto non fa vedere certo una mamma zoppa, ma una mamma che fa la spaccata. E pazienza se si vede un pezzettino di sedere. Ciao!